Il bollettino quotidiano del 28 luglio, scaricabile dal sito del Ministero della Salute, parla di 60.381 nuovi casi Covid-19 in tutta Italia. Il dato relativo all'incremento rispetto al giorno precedente registra per la sola Sicilia 4.096 casi. In provincia invece, secondo l'aggiornamento dell'Aspenissena, sempre del 28 luglio relativa alle 24 ore precedenti, Sono 187 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 60 di Gela, 48 di Caltanissetta, 25 di Niscemi, 11 di San Cataldo, 8 di Sommatino, 5 di Butera, 5 di Mazzarino, 5 di Mussomeli, 4 di Riesi, 4 di Serra di Falco, 3 di Santa Caterina, 2 di Delia, 2 di Milena, 2 di Vallelunga Pratameno, 2 di Villalba e 1 di Montedoro. 6 i ricoveri in degenza ordinaria, 4 pazienti di Caltanissetta, 1 di Delia e 1 di Gela. Dimesso invece dalla degenza ordinaria, un paziente di Caltanissetta guarito virologicamente. Deceduti, 2 pazienti di Gela positivi al SARS-CoV-2. Guariti infine 79 pazienti di Gela, 71 di Caltanissetta, 36 di Niscemi, 16 di San Cataldo, 15 di Sommatino, 11 di Mussomeli, 10 di Riesi, 7 di Mazzarino, 5 di Santa Caterina, 4 di Milena, 4 di Montedoro, 3 di Butera, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Delia, 2 di Villa Alba, 1 di Marianopoli, 1 di Serra di Falco e 1 di Vallelunga Pratameno.